Ciao, allora, sono stanchissima, tutta la settimana mi sveglio alle 6, la sera non è che andiamo a dormire presto, perché se almeno non so alle 10, no, se almeno non so alle 11, mezzanotte, io sono un orsacchiotto, cioè ho proprio bisogno di dormire, io devo dormire tanto, quindi c'ho sonno, c'ho sonno, c'ho sonno e so stanca. Comunque, sì, tutto questo per giustificarmi il mio aspetto, giustificarmi, no, giustificarvi il mio aspetto, e no, normalmente vado truccata, al corso lo sto facendo, ma io la posso fare, lo sbatiglio del video arriva subito, mazza, manca un minuto è passato quando iniziamo il video, e va bene. Allora, io già l'avevo detto che il colpa è stata prima colpa di Lucy, poi è arrivata pure Cristina, mymakeupreview.net, ci si è messa pure lei. Poi è arrivato il super, iper, mega video di Patrizia, liberamente penso. Ho appena finito di vedere il video che ha fatto Laura Felosian, e mi rido perché ogni tanto quando parla, quando dice certe cose, mi fa sentire a casa, e quindi, cioè, pure se dice cose normali, il tono, o comunque la frase, come la dice, e mi sento a casa e quindi rido, marito proprio contenta, e quindi, grandissima scoperta Laura, per me. E niente, insomma, che è successo? L'agenda, l'agenda, la nuova moda del 2014, l'agenda, l'agenda, l'agenda. Già vi ho fatto vedere la mia agendozza, ma qua mi viene tutta disordinata, questa qui. Questo non è un video sull'agenda, perché non... E non è che ve la faccio vedere dentro, tanto non è che ho fatto chissà che. Io non so, non so buona a decorare l'agenda, c'è qualche pagina che mi viene più caruccia, ma le altre sono terribili, che manco voi potete immaginare. Non ho una plastificatrice, però per adesso ho stampo di visori come se non ci fossero domani. E se questo è caruccio, ve lo faccio vedere, per esempio, ho preso, ho trovato, un'amica mi aveva linkato, un articolo di Radio Globo. Sì, Radio Globo, la radio, la mia radio preferita. Che praticamente c'è questo poster delle scarpe di Carrie, di Sex and the City, con sottoscritto l'episodio dove se l'è messa. E ecco, per esempio, io ne ho fatto, non ho selezionato solamente 12 d'immagine, di quelli che mi piacciono di più. L'ho messa con le dimensioni della mia agenda e ne ho fatto, cioè, ne farò un divisorio. Vedete, l'ho tagliato, l'ho stampato, l'ho tagliato, l'ho perforato con uno, col perforatore uno per uno, però io non ho plastificatrice. Quindi per adesso, un pezzo di carta, ci ho messo tipo un post-it qui. Qui ci ho messo un post-it piegato, tra l'altro, perché se no è troppo grosso. Piegato, eh. Però comunque, è proprio una cosa così molto shwe shwe, questa agenda. Deve, sto, stampo, stampo divisori, stampo divisori. Ah, ho fatto questo. Che è, con YouTube. L'immagine, questa immagine l'ho presa da internet, questo è YouTube. E qui c'è il logo del mio canale, che sarà il divisorio delle idee, dove appunto, dove metterò le idee per il canale, dei video e tutto quanto. Però, insomma, l'agenda è una cosa molto normale, perché non avendo plastificatrice, ecco. È, è in procinto. Ho stampato altre foto da me. Adesso, quando si apre, la, questo, cioè, come principale. Questa qui l'ho comprata da Emma, in, in Olanda. Ci ho messo degli adesivi. I vorici, Winnie Pooh, Hello Kitty e altro Winnie Pooh. E, ehm, sì, proprio io adesivi da, da 28 anni, questo è proprio. E, niente, e l'aspidi, che è una delle borse che mi piace di più, eh, però, è scomola. Scomola, sì. Quando, quando, comprata io l'aspidi, non, non esisteva l'aspidi BB, che si può portare a tracorla. Quindi, ah, ma non manca, poi io la riempio troppo. Comunque, l'agenda. E che è successo? Che è successo? Che ogni volta la parola è cinese. E, niente, pazza, compro, oddio santo. E, niente, voglio far vedere le cosette, diciamo, di cancelleria che ho trovato. Allora, innanzitutto, qui dentro, a 70 centesimi, c'erano 30 etichette, che adesso sono fuori, le devo rimettere dentro per mettere bene la parte, con scritto auguri, scritto in spagnolo. Una già l'ho usata. Presto se ne andranno di più, perché sto preparando un bel po' di do it to yourself. Poi nel regalo di complanno di un'amica, che sarà prossimamente, insomma. Quindi ho preso quelli a 70 centesimi. La cosa bella di cinese è che la maggior parte delle cose costano 70-75 centesimi. Ho preso queste, che adesso non si vedrà nulla, si vedrà solo l'arancione. Ah, ecco, così, vedete che ci sono delle stelline? In realtà sono delle stelline. Sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, neve, dieci, sono sessanta. Cioè, ognuna di queste ha 60 stelline E questo Le stelline sono Mi piacciono molto a me le stelle Poi ho preso Quello per 70 centesimi Poi ho preso questi post-it Che devo decidere bene se regalare o meno Io nel dubbio cerco sempre di togliere il prezzo Quindi Che sono così, sportivi E' bellissimo perché c'è scritto Serie palle C'è la palla E il ballone d'oro Il pallone d'oro Tennis, palla a volo E basket Che sono post-it Molto carino Devo decidere se regalo o tengo Sempre si continuiamo con i cinesini Allora, i cinesini ho trovato Mi faccio vedere Dov'è? Ah, ecco qua Scusate Ho trovato questo Era dietro a tutto E c'era scritto un euro Ma che è? L'ho preso Include più di 200 sticker Che? Fogli con sticker divertenti Praticamente è di Winnie Pooh Che io amo e adoro E ci sono gli sticker di Sono quattro fogli E praticamente sono quattro stagioni Le quattro stagioni ci sono Quindi questa qui è inverno E dentro c'è la primavera L'estate E l'autunno Per un euro Io quindi Mi piace poco tanto Mi piace Mi piace E' tutto morbidoso Mi piace Winnie E mi piace L'asinerlo Io Vabbè Poi ho preso questo Che non so bene ancora Se ci faccio un regalino O lo tengo Scusate Vedo che la Che il video fa E questo fa Così Comunque Questo è qui Se lo faccio piano No Lo fa comunque Queste Poi Questo l'ho preso a Carrefour Un euro Mi è venuto E In realtà sarebbero Tipo Forme Rimoribili Educativi Perché sarebbero Per far contare I bambini E tutte queste cose Però a me Sono piaciute Quindi l'ho preso uguali Ci sono I numeri Palloncini Fiorellini E pescetti Soprattutto per i numeri Mi interessava Comunque Questo Così Poi 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 Torniamo al China Abbiamo finito Tornando al China Ho preso Questo Praticamente È tipo Il Tipo il bianchetto Il topolino Come si chiamava Insomma Come quello lì Però C'è Il nastro adesivo Invece Il bianchetto Dentro c'è il nastro adesivo Quindi quando si passa Lascia La La cosa appiccicosa Ci poteva appiccicare le cose Questo per la gente È molto più pratico Del tubetto Di colla Maledetto Poi Ho preso Questa cosa Come ti dico Angela ma che hai comprato? Certo Ho comprato Un Sono delle forbici Che però Praticamente Questa parte qui Si cambia Ed ognuna di queste Taglia in una forma Diversa La prima per esempio Sono triangoli Poi ci sono le onde Ci sono Ecco qui dietro Ci sono tutti quanti I modi in cui tagliano Vedete Io che adoravo tanto Le forbici di mia madre Quelle per cucito Quelle Quelle enormi Che tagliavano A zig zag Mamma mia Quanto mi piacciono Quelle forbici Quando ho trovato questa Ha fatto E quindi l'ho presa L'ho presa Anzi Poi ho preso Una 60 centesimi Mi pare La goma eva Non so come si chiama In italiano Goma eva E quella tipo spugnettata Ho preso Le stelline Vedete Sono tutte adesive E i coniglietti Coniglietti E stelline Tutto adesivo E ho preso Anche questo Che penso di Smezzare Sono sempre così I palloni Ho preso Queste Che vabbè Questa non è proprio Cancelleria Sono delle figurine In feltro Perché mi serve Per fare uno dei Uno dei regalini Che devo fare Insomma Ce lo voglio appiccicare Sopra E penso Userò Con la rossa E poi Infine Da Primor La profumeria Ho preso C'è tutta Quanta una parte Che normalmente sta A un euro Massimo tre Massimo tre Quattro euro E Ce ne sono tutte quante cose Per bambini E C'è tanto Hello Kitty C'è anche Winnie Poo Topolino Tutte queste cose E' pieno Zeppo E quindi io Sono diventata stupida La penna di Hello Kitty Alla fine Non l'ho presa Perché veniva a due cinquanta E non mi andava di prenderla Anche perché ho questa Bella bellissima Tipo Swarovski E tipo Swarovski Non è Swarovski Eh Sia chiaro Costa tre euro Scrive blu Si rigira E quella è sempre Nell'agenda Che è perfetta Quindi ho preso Questo E' il mousepad Il mousepad Di Hello Kitty Io non uso realmente Il mouse Ma perché non Perché essendo un portatile Lo tolgo dal tavolo E lo appoggio qui Che abbiamo tipo Una cassa banca E quindi Col mouse Sarebbe un po' più Incombrante Però Ogni volta Avviene Papà Papà Sì che usa il mouse Ogni volta Il mousepad Non ci funziona Nessun mousepad Cioè funzionano Col computer fisso Sì Però quando lo mettiamo qua Il mouse Che Quello piccoletto Non slitta Diciamo E quindi Visto che il computer Diciamo il mio Ho preso Questa di Hello Kitty Una cosa sobria Questa è un euro E Mi pare 1,99 Quello di Hello Kitty Poi Ho preso Questi Come li chiama qua Fogli Fogli Sono dei taccuini Sono dei fogli E E' un Hello Kitty Sempre Hello Kitty Così Hello Kitty Abbronzata Che sta tessendo Una Una collana Di quelle di Della Loro Hello Kitty Con la coniglietta Con la collana Ed Hello Kitty Con Luca Lele E l'orsacchiottino Che balla Sempre Hello Kitty Abbronzata Ecco Vedete Sono 50 fogli Poi Dopodiché Questo qui Questo qui Non l'ho potuto aprire E qua dietro C'era scritto 20 sticker sheets 20 fogli sticker 20 fogli memo E Un Un foglio di sticker L'ho preso comunque Veniva a 2,99 E ho detto Bah ci provo Perché non ce n'erano altri Quindi è così E Praticamente Dietro ci sono i fogli Di memo Sono così Semplici Rosa Questo è più Per mandare Tipo bigliettini Lo taglio bene E Bigliettino Poi c'è Ci sono gli sticker Qui davanti E poi La parte bellissima Questo 20 sticker sheets Prima Sono 20 fogli Adesivi Adesso È classificato Praticamente Quindi qui sopra Io posso tagliarlo bene Lo metto nell'agenda E qui sopra Posso mettere Tipo un po' di post-it E quando mi serve Quando finisce La ricarica Di post-it Ce lo posso appiccicare Un'altra sopra È bellissima Certo 3 euro Realmente Non l'avrei pagati Cioè Se avessi potuto Guardarlo dentro Non le avrei pagati 3 euro Non l'avrei comprata Però Insomma Cosa fatta Capo A Non è malaccio E niente Credo che sia tutto Per la cancelleria Perché Ah Per il compleanno Un'amica mi ha regalato Questo Quando l'ho visto Lei non sapeva assolutamente Di questa mania Che mi è venuta adesso Quando hai fatto Etichette Come etichette Per olio Aromatizzatori Cioccolare Etichette adesive Quando l'ho aperto Dico Boh Olio aromatizzati Olio con Peperoncino e aglio Dico Bah Quindi stavo così Ma vabbè Queste sono ricette Perché c'è scritto etichette Perché c'è la ricetta E ci sono tutte Le etichette Che si possono Staccare E attaccare Su barattoli Sono 56 Sì 56 etichette adesive Quindi qua Ci sono poi Altre ricette E Altre etichette Altre etichette E Altre etichette Altre etichette E Tutte le Altre etichette Vedete E vedete Tipo quelle Per la marmellata Così Con la confetta Con le fragole Belle Molto classico Ma Belle E Cancelleria Abbiamo finito Signori Sì 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 Video 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 All Cancelleria Tra virgolette Video All Un po' Agendifero Più che Cancelleria Perché Non sa che c'è Cancelleria Infatti E va bene Ah C'è un concorsino In atto Però non ho ricevuto Ancora nessuna foto Scade tra dieci giorni Spero di ricevere Almeno una foto Se 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 Non ricevo Almeno Una foto Per ogni tipo Di Di collana Di 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 Vedremo Lo Chiudo E Basta E Niente Non Boh Se vede che non è stata accettata L'idea non è piaciuta E va bene E al prossimo video Ciao ciao Sperando di dormire un po' meglio E non sbagliarvi in faccia Ciao